Il corso di formazione Gioiello Forme e Culture è una nuova proposta formativa di Sapienza del Dipartimento Saras realizzato in partnership con Fede Preziosi Roma e con la collaborazione di Copcommercio Roma. È un prodotto nuovo che si inserisce all'interno dell'offerta formativa del Dipartimento in continuità con alcune esperienze didattiche legate appunto anche a gestioni sulla moda ma che aspira in particolar modo ad avere un taglio assolutamente interdisciplinare quindi cercando appunto di raccontare il gioiello da molteplici prospettive differenti complice anche il fatto che il Dipartimento che lo ospita ha una vocazione appunto profondamente interdisciplinare quindi potrà dare un contributo in termini di lettura storica, simbolica, religiosa, artistica appunto di moda e comunicazione e allo stesso tempo invece il contributo di Fede Preziosi sarà appunto rivolto alla valorizzazione delle pratiche, delle competenze specifiche dell'artigianato orafo e della gioielleria in particolar modo rispetto al contesto romano come appunto forma di cultural intangible heritage, quindi qualcosa che appunto va preservato e raccontato il corso è organizzato con due appuntamenti settimanali più una serie di visite che organizzeremo nei musei romani in particolar modo alla ricerca appunto delle collezioni di gioiello che sono disseminate all'interno dell'offerta museale romana il corso appunto offre 10 crediti formativi, quindi è un corso riconosciuto ovviamente all'interno di qualunque percorso didattico e scientifico dell'università allo stesso tempo si rivolge quindi sia a studenti ancora iscritti ai corsi di laurea sia a studenti neolaureati che a professionisti del settore che vogliono arricchire le loro competenze anche in relazione per esempio ad alcuni aspetti che magari nella pratica quotidiana non hanno il tempo di approfondire. L'idea è appunto quella di toccare temi importanti, caldi come anche quello della sostenibilità, quello appunto del rapporto con l'innovazione tecnologica e allo stesso tempo però la salvaguardia e la trasmissione di quelle che sono le competenze più tradizionali legate appunto ad una realtà così vivace, così attiva anche per quella appunto dell'artigianato arafo. Grazie